Un saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Segnalata coda in A11 in direzione Pisa tra Prato Est e Prato Ovest per incidente al chilometro 15. Sulla strada statale 1 Aurelia incidente presso Calafuria con chiusura della carreggiata in direzione sud con uscita obbligatoria a Montenero Livorno, disagi segnalati anche in direzione nord. Chiuso per lavori in entrambe le direzioni fino al 12 agosto il tratto della variante di Certaldo e della strada regionale 429 della Valdelsa tra il chilometro 12 e il chilometro 17. La strada collega i comuni di Certaldo, San Gimignano e Gambassi Terme. A Firenze traffico rallentato per incidente in via Senese in zona Le Due Strade in direzione Certosa. Per interventi di RFI che riguardano il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, circolazione sospesa tra Pistoia e Pescia fino al 29 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!